Uno studente su quattro, almeno una volta nella vita, ha sperimentato l'uso della cannabis, mentre il 19% l'ha consumata negli ultimi 12 mesi. Sono alcuni dei dati riportati dal Dipartimento Politiche Antidroga, che conferma la tendenza alla contrazione del numero dei consumatori già osservata nel 2011 per la cocaina, gli allucinogeni e l'eroina. Una sostanziale stabilità nei consumatori di cannabis, con una lieve tendenza alla ripresa e un incremento dell'uso di stimolanti, ecstasi e infetamine. Contemporaneamente è partito da Roma il secondo tour del progetto elementare, ma non troppo, promosso dal Dipartimento delle Politiche Antidroga, dall'Istituto Superiore di Sanità e dal MOIGE, per sensibilizzare e informare i minori, i genitori e i docenti sui rischi connessi all'uso delle droghe, dell'alcol e sui fattori favorenti l'avvio del consumo.